23 dicembre 1916. Nasce a Milano Dino Risi. Nel 1940 inizia la sua gavetta cinematografica come assistente di Mario Soldati in Piccolo Mondo Antico. L'anno di svolta è il 1956, quando esce Poveri ma Belli, il film capace di trasformare il neorealismo in commedia all'italiana. Fra i suoi film più celebri, Una vita difficile con Sordi, I mostri e In nome del popolo italiano, con Gasman e Tognazzi. E proprio con Gasman è la collaborazione più duratura di Risi, che lo dirige in pellicole come Il mattatore, Il sorpasso e Profumo di donna. Risi muore a Roma il 7 giugno 2008.